ciao questo non sarà un solito video è un video diverso dal solito se avete letto il titolo e spero avete detto il titolo perché un po di tempo fa per chi si ricorda su questo canale avevo parlato dell'andamento del canale e del fatto che per colpa di un fottuto video che feci anni fa non potevo più raggiungere la monetizzazione che ero non idoneo ad avere la monetizzazione per aver violato una regola di youtube le norme della community ecco come viene definito però è successo che a dicembre se non vado errato adesso non ricordo perfettamente il periodo penso intorno dicembre nella dashboard mi appare una notifica che mi diceva che se faceva una specie di test dove dovevo rispondere a delle domande potevo in qualche modo riuscire a rimuovere questa violazione e allo scadere poi della data che veniva impostato potevo almeno quello che speravo anche io di riavere la monetizzazione riavere la possibilità di raggiungere la monetizzazione perché io non avevo ancora raggiunto ma potevo diciamo raggiungere gli obiettivi visto che appunto secondo questa roba si poteva togliere la violazione della community la violazione è stata rimossa perché io nella mia dashboard non appare più non risulta più che c'è una violazione delle community e quant'altro però quando vado a cliccare su guadagna su monetizzazione esce ancora scritto che non sono idoneo ho contattato tramite appunto il secondo canale perché lì aveva la possibilità di contattare direttamente youtube e ho chiesto ulteriori ricerche ulteriori ulteriori verifiche e da quello che diciamo loro hanno notato c'è ancora questa violazione che non mi permette di avere la monetizzazione quindi facendo un po' di ragionamenti vedendo tutto il tempo che spendo e che ho perso nel creare contenuti per non solo trovare le idee dei video da fare ma il montaggio quindi l'editing scaricare le clip creare sempre diciamo stili nuovi per esempio anche le outro le musiche e quant'altro condividere i video nei social che altro le copertine anche tutto il tempo speso nel fare le copertine e quindi ragionando ho deciso che questo canale purtroppo dovrà diventare come avevo già detto in quel video un canale archivio quindi chi si vorrà godere i video che sono già usciti se li può godere non verranno cancellati però molto probabile non ci saranno contenuti nuovi perché non ha fottutamente senso pubblicare a costo zero cioè non ho entrate non ho nulla perché devo continuare a pubblicare dei video sì ok la mia passione mi piace mi piace editare mi piace ecco raccontare un qualcosa divertirmi con voi ma la stessa cosa posso farlo tranquillamente altrove posso farlo su tiktok su instagram posso farlo anche su twitch in live sì ok non c'è la magia dell'editing lì perché è tutto in diretta però posso comunque continuare a fare reaction divertirmi e quant'altro questo non ci piove tranquillamente questo è giusto per dirvi che non abbandono internet rimarrò comunque qui non pubblicherò video su questo canale però rimarrò qui ecco se volete seguirmi nel secondo canale youtube dove appunto è dedicato a twitch dove carico vod o estratti live o shorts o best of dedicato appunto a twitch se volete se volete seguirmi lì vi lascio il canale sia nelle informazioni sia nella descrizione e sia le schermate finali del video se volete seguirmi questo è quanto rega purtroppo non pubblicherò altri video su questo canale ahimè mi dispiace speravo tantissimo che con quel piccolo aiuto di youtube si potesse si potesse ecco sbloccare la situazione ma ahimè ciò non è successo ecco ciò non è successo a me dispiace tantissimo perché ci tenevo a riraggiungere la monetizzazione ma da quello che ho notato da quando ho perso il mio storico canale le cose sono andate tutte di merda tutte di merda non solo ho avuto difficoltà ad avere tutti questi iscritti ecco soprattutto nell'ultimo periodo ma anche appunto la monetizzazione che per colpa di quel fottuto video ahimè è andato tutto a puttane quindi è giusto fare questa scelta e trasformare questo canale in un canale archivio e poi comunque come avevo già detto c'è il secondo canale per chi vuole godere di altri contenuti di gameplay di reaction di best of di shorts potete comunque goderveli lì alla fine sì non saranno editate non saranno diciamo come erano i video di questo canale però comunque io spero di fare del mio meglio spero di riuscire ecco a strapparvi comunque un sorriso venite lì comunque dai che sicuro non ve ne pentirete poi se non vedete la stessa qualità di questo canale potete benissimo dirmelo così cercherò anche lì di riportare ecco ciò che facevo qui in parte ecco perché comunque parliamo sempre di un canale che ha a che fare con contenuti che faccio su twitch detto questo io ringrazio tutti coloro che mi hanno seguito fino adesso vi ringrazio tantissimo vi chiedo un'ultima cosa se volete ecco come posso dire supportare ecco tutto il lavoro svolto fino ad adesso vi lascio nel commento pinnato e anche nella descrizione un link dove potete fare una donazione una piccola donazione non vi chiedo nulla non vi chiedo di donarmi somme gigantissime pure solo un euro potete farlo tranquillamente così almeno in parte riusciremo a ripagare tutti i lavoro speso in questo canale in editing in ricerca di video ricerca di clip tempo speso in copertine e quel tempo non ritornerà mai indietro però mi è stato utile per migliorare giorno dopo giorno appunto nell'editing e sono contento di questo così poi posso propormi in futuro come editor ad altri creator io sono disponibile anche in questo e che dire ci si becca altrove adios